In occasione di Natale mi sarebbe piaciuto visitare, se non tutte, almeno diverse case di riposo, diverse RSA, diverse strutture dedicate proprio alle persone anziane, alle persone malate, alle persone disabili e purtroppo non è possibile vista la situazione. Ma desidero rivolgere un saluto a tutti, a coloro che vivono in queste strutture, a coloro che si prendono cura di queste persone, ai familiari che spesso non possono raggiungerli o se non possono solo attraverso, come in questo caso, un video, un mezzo della tecnologia attuale. E che davvero il Signore in questo Natale sia comunque sentito da voi come il Dio con noi, un Dio che non ci abbandona, che ci sostiene, ci dà fiducia, ci dà coraggio. Per questo, nonostante tutto, sia davvero un Buon Natale, un Natale con il Signore. Auguri.